Il treno e le stazioni ferroviarie evocano subito il viaggio, il trasporto, le genti e la comunicazione. Il treno consente a chi lo utilizza di concentrarsi sul paesaggio e di riflettere e di potersi documentare stando comodamente seduti e spostarsi. Nella stazione di Pesaro in questi giorni stazione un convoglio molto speciale che non arriva e riparte subito in pochi minuti, ma si ferma e dà modo a chi sale a bordo di pensare ad un mondo più pulito, più giusto, meno inquinato. E il treno verde di Lega Ambiente, 11 tappe da nord a sud per raccontare l'Italia che piace, quella che rigenera. Nella fermata a Pesaro il treno verde 2016, oltre ad ospitare le scolaresche di ogni ordine e grado, guidate ed affascinate dalle guide esperte di Lega Ambiente, ha anche convegni e dibattiti, come quello di questa mattina nella carrozza condominio, dove il comune di Fano è stato chiamato ad una testimonianza diretta, quale comune virtuoso della provincia pesarese. Le nostre attività in questo anno e mese hanno riguardato quello che riguarda l'aria, riguarda la terra, riguarda l'acqua, a cominciare dalla bonifica dell'amianto con oltre 150 tonnellate di amianto bonificato, alle centraline per il monitoraggio costante dell'aria nella zona industriale, per quello che riguarda la qualità delle acque, dove porteremo gli scolmatori a largo per migliorare la qualità dell'acqua, come per esempio il progetto della vasca di prima pioggia nell'Arzilla, poi ovviamente con l'iniziativa più importante quella degli edifici intelligenti, cioè del consumo del territorio zero, riqualificando, guardando all'efficientamento energetico. Questo è un progetto molto importante che Lega Ambiente ha preso ad esempio, quindi è un momento importante per la città di Fano, un riconoscimento per questa amministrazione, ma soprattutto mi sento di dire da sindaco che è un bel servizio che noi stiamo facendo per la nostra città. Un appuntamento molto importante per tutto il territorio, non solo per la città di Fano, ma per noi chiaramente lo è perché è un'occasione di riconoscimento per quello che il Comune di Fano ha fatto in questi ultimi anni proprio per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia anche della salute dei cittadini. E questo è uno strumento utile per incontrare soprattutto le giovani generazioni, i ragazzi, i bambini, spiegargli anche il senso di investire risorse, tempo, energie sull'ambiente ed è anche un modo per rendicontare alle proprie comunità quello che si fa proprio sui temi dell'ambiente. E quindi è un'occasione anche per il Comune di Fano per ripercorrere dalla bonifica dell'amianto, al piano antenne, ai tanti interventi di salvaguardia dell'ambiente che hanno riguardato ad esempio anche le acque di balnazioni, quello che è stato messo in campo è quello che si farà. Le Gambiente Ferrovie dello Stato ci guidano nell'emergenza globale del clima, fino agli strumenti per intervenire nelle città e nei nostri quartieri. Cambiare le nostre città significa in maniera integrata agire sulla mobilità, agire sulla efficienza energetica dei nostri edifici e contribuire a una qualità migliore della vita dei propri cittadini, creare nuove opportunità di lavoro. Per cui è un ragionamento articolato, complesso, che noi con il nostro treno verde abbiamo la fortuna di avere questo mezzo a disposizione grazie alla collaborazione con RFI. Abbiamo fatto il pieno delle classi che sono in visita tutte le mattine, abbiamo dovuto fare anche dei turni nel pomeriggio, quando solitamente il treno è aperto solo ai cittadini, per cui un grande successo di anche riconoscimento da parte dei cittadini. Il treno verde di Lega Ambiente è composto da quattro carrozze, in ognuna delle quali viene sviluppata una tematica diversa in tema ambientale, attraverso il dialogo con gli operatori di Lega Ambiente e anche attraverso i pannelli che sono apposti alle pareti. Qui le scuole e i visitatori potranno approfondire tematiche importanti. Il treno rimarrà sul binario 1 della stazione di Pesaro fino a domani sera, dalle 16 alle 19 sarà visitabile da parte di tutti i cittadini. Un tema affascinante e complesso, quello che arriva col treno verde e che porta dritto al cuore di una grande sfida, la trasformazione delle città, la rigenerazione urbana, gli ecoquartieri in città sostenibili, la sfida mondiale sul nostro futuro e di cosa vogliamo lasciare ai nostri figli e alle prossime generazioni.